Ciao Celineers, come state? Benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qua per una bellissima collaborazione con Yoins. In pratica mi hanno mandato un sacco di vestiti, li ho scelto io ovviamente, e non ve lo volete farvi vedere, vi lascerò benvenuti in descrizione come al solito, questo è un bellissimo Choi Haul, ci sarà anche un colpo di sconto, vi lascio tutto qua o in altre parti e anche in descrizione. E vi vi rinvito subito su una cosa veramente, veramente bellissima. Ciao! Ciao! Allora Selina, riguardo a questo costume io sono veramente innamorata, a parte che penso usare il pezzo sopra il filo e la maglietta, però è proprio comodissimo, bellissimo e dai un po' niente diverso dai costume che si chiamano il soggetto, ve lo consiglio veramente, così. Allora, parliamo di questi bellissimi leggings che ho preso, in pratica hanno anche la taschina, sia qua, quella questa parte qua. Io adoro mettere i leggings, in pratica mi metto sopra i vestiti perché sono comodissimi, tanto che ogni volta tipo il telefono va qua e poi scivola e poi cade, ecco, questi li ho presi proprio perché mi sono sembrati comodissimi e lo sono, molto 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 e poi con questa taschina stupenda per il telefono, wow! Sì, questo è un po' niente diverso, come un po' niente diverso, come un po' niente diverso, come un po' niente diverso. Ciao 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 Siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questo bellissimo China haul Io spero veramente che le cose che ho scelto stavolta vi siano piaciute perché a me veramente mi hanno fatto impazzire sono rimasta veramente innamorata di tutto 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 mi raccomando usate il mio codice sconto che vi lascerò anche qua e tutte le altre cose comunque le trovate in descrizione e niente io vi mando un bacione, vi auguro una bellissima giornata e ci vediamo in un'interazione Ciao Grazie a tutti